Sesta edizione per la campagna Viverla Tutta, organizzata da Pfizer dal 2011, quindi questa campagna di comunicazione e sensibilizzazione che coinvolge un aspetto sicuramente interessante che è quello della medicina narrativa. Che cos'è la medicina narrativa? La medicina basata sulla narrazione ha dimostrato di portare dei benefici molto importanti nel processo di cura, sia per il paziente che per il medico, sia affiancata alla medicina basata sulle evidenze. La medicina basata sulla narrazione si avvale di strumenti e di metodiche che si basano sull'ascolto attivo del medico da parte del paziente. Questo che cosa comporta? Una maggiore consapevolezza da parte dei pazienti che si vedono presi in carico dal medico, e quindi rispondono in maniera molto più puntuale alle terapie, alle indicazioni terapeutiche che il medico dà. D'altronde, d'altro canto, aiuta anche a risparmiare, ad apportare dei risparmi e dei benefici nel sistema salute, perché attraverso l'ascolto attivo i medici riescono ad individuare molto prima segni e sintomi particolari e quindi ad arrivare alla diagnosi, alle volte magari evitando esami e ricoveri inutili. Il progetto Viverla Tutta nasce quindi con questo duplice obiettivo. Da una parte promuovere l'impiego della medicina narrativa nel percorso di cura, ma dall'altro anche quello di dare voce ai malati e a coloro che li assistono ai caregiver, perché possano esprimere le loro emozioni attraverso il racconto del percorso della malattia. Ecco, nelle precedenti edizioni sono molte le persone che hanno partecipato e naturalmente ognuno ha raccontato la sua esperienza anche con stili e linguaggi molto diversi. Assolutamente sì. Ognuno ha raccontato la sua esperienza mettendo in luce vissuti diversi, spaccati di vita diversi, emozioni diverse che vanno dalla paura alla rabbia, ma anche alla determinazione, alla forza, al coraggio di vincere la malattia. La narrazione si è dimostrato un elemento estremamente importante in questo processo di cura, perché attraverso la narrazione il paziente sente di poter trovare meglio uno scopo nel vivere il suo percorso, ma nello stesso tempo ha anche una forte voglia di condividere quello che sta vivendo per aiutare anche gli altri che si trovano nella stessa situazione. Il punto di riferimento del sito è viverlatutta.it, dove si può iscriversi e poi lasciare la propria storia c'è tempo fino al 5 giugno per poter partecipare a questa selezione, perché poi i migliori racconti saranno pubblicati da UTET. Ecco, quest'anno per la prima volta avete coinvolto anche la Scuola Holden, perché? Esatto, sì. Quest'anno abbiamo lavorato insieme a Scuola Holden perché pensiamo che gli esperti di Scuola Holden possano dare un aiuto concreto a tutti coloro che hanno voglia di raccontarsi ma fino ad ora non sono riusciti a farlo. Sulla nostra pagina Facebook di Viverla Tutta sono numerosissimi post delle persone di altri malati a commento delle storie di malattia. In questi post ci sono una serie di elementi comuni. Da una parte l'apprezzamento per chi è stato in grado di raccontare il suo percorso in maniera così efficace, ma nello stesso tempo anche un po' di sconforto nel sentirsi non in grado di ripetere questa esperienza per la classica sindrome da foglio bianco, da pagina bianca. E quindi pensiamo che la collaborazione con gli esperti di Scuola Holden possa realmente portare un aiuto a tutti coloro che hanno voglia di raccontarsi e che possa aiutarli nel percorso di scrittura autobiografica. Amalia Egli Gentile è responsabile della medicina narrativa al Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità. La medicina narrativa ma come funziona in concreto? È una metodologia, quindi è un insieme di metodi e di tecniche che possono essere utilizzate con i pazienti, con i familiari ma anche con gli operatori sanitari. Per esempio ci sono interviste narrative, dei videocolloqui, la raccolta di racconti scritti, la cartella parallela che il medico può scrivere accanto a quella che è la cartella classica. Insomma ci sono tantissime diverse modalità di fare medicina narrativa. Naturalmente devono essere adattate al contesto e all'obiettivo che si vuole raggiungere e ai destinatari, al target e quindi rispettando sempre due criteri. Che innanzitutto la scelta del metodo, che sia l'intervista, che sia il videocolloquio, che sia il racconto scritto, sia la più confacente a chi ne usufruisce, al destinatario. E poi che la narrazione sia finalizzata, lo studio della narrazione sia finalizzato ad un risvolto pratico delle cure. Il fatto che naturalmente ci sia il riconoscimento dell'Istituto Superiore della Sanità ne attesta la validità in un qualche modo, ma ci sono dei progressi? C'è uno sviluppo anche nella ricerca, nelle metodologie? Negli anni c'è stato uno sviluppo nelle metodologie perché naturalmente si è partiti dall'oncologia. I primi articoli che parlavano di medicina narrativa, di Byron Goode, riguardavano l'oncologia. Poi si è sviluppato molto nelle malattie rare, soprattutto in Italia perché abbiamo promosso l'utilizzo della medicina narrativa in questo contesto. Sicuramente ci sono stati degli sviluppi, però è necessario che si faccia ricerca. Si faccia ricerca sia per elaborare una metodologia di valutazione dell'efficacia di questi interventi e oltretutto che chi fa medicina narrativa, chi utilizza la medicina narrativa, queste tecniche, questi metodi, sia formato, sia formato su queste competenze comunicative, in particolare sulla narrazione e su quelli che sono gli strumenti. Martino Gozzi è il direttore didattico della scuola Holden. Questo raccontare anche la malattia, anche il dolore, per la prima volta coinvolge anche appunto la scuola Holden. Qual è stato il vostro contributo? Addirittura con 5 video tutorial. Sì, ma l'ambizione della scuola Holden ormai da più di 20 anni è quella di formare narratori consapevoli, quindi non solo scrittori, non solo registi, non solo giornalisti, ma narratori consapevoli, cioè che sappiano collocare se stessi all'interno del mondo e all'interno delle storie e quindi che scrivano e raccontino la propria storia con una consapevolezza in più, con strumenti. Quello che è l'apporto di scuola Holden a questo progetto è appunto questo, fornire strumenti per raccontare le storie in modo efficace perché arrivino ai lettori. E raccontare il dolore o la malattia può essere ancora più difficile, no? Che raccontare magari semplici storie, un po' più lieto, più allegra. Certo, può essere più difficile, è sicuramente una sfida ed è una sfida che porta nel migliore dei casi a conoscersi meglio, ma soprattutto porta a creare un legame, un ponte con l'altro, con il lettore in questo caso, cioè attraverso la parola scritta è possibile fare dono della propria esperienza a chi legge, quello che è tanto difficile fare dal vivo, no? Di persona. E poi gli strumenti dello scrivere, naturalmente ci sono sempre più studenti alla scuola Holden, quindi c'è sempre più questa passione dello scrivere anche in un mondo forse dominato da una comunicazione ormai integrale. Beh sì, qui questa è una scuola di narrazione, storytelling and performing arts. La scrittura è una componente forte che è stata presente fin dall'inizio, ma il cuore della scuola è un insegnamento trasversale, una sorta di fertilizzazione incrociata, per cui chi arriva con l'idea di scrivere si trova a studiare le serie tv, chi arriva con l'idea di fare il giornalista si trova a studiare il cinema, chi arriva con l'idea di fare fumetti si trova a studiare l'opera, perché pensiamo appunto che formare narratori significhi insegnare ai nostri studenti una pluralità di linguaggi per poi tornare alla propria vocazione con strumenti maggiori. Con l'attenzione anche ai social? Assolutamente sì, assolutamente sì. Come si racconta attraverso i social il mondo? Beh in tantissimi modi diversi, qui noi anzi siamo fieri di avere lanciato tre anni fa ormai il college di cross media che ora si chiama digital ma nella sua essenza è questo, la possibilità c'è di raccontare storie con linguaggi diversi su piattaforme diverse nell'arco di un tempo dilatato e che prevede a differenza del passato l'attivazione, la partecipazione del pubblico, questa è la grande novità dell'oggi.